oppure ti chiedono cosa ne pensi di Camarda Camarda è interessante, ero alla partita della Youth League quando ha fatto il gol in rovesciata contro il Paris, chiaramente un 2008 che fa tutti questi gol, si tratta secondo me di capire se è forte o fortissimo perché evidentemente non puoi giocare così tanti anni sotto l'età se non sei forte, quindi si ragiona da forte in su deve probabilmente migliorare, anzi sicuramente in alcune cose, deve restare umile però è uno con la testa giusta dicono al Milan, insomma Abate ogni tanto lo tiene lo tiene sotto, però poi comunque lo fa giocare a titolare il 9 della primavera del Milan nel 2008 so che molti milanisti lo vorrebbero vedere già adesso è facile dire se Jovic è questo metti Camarda però insomma io credo che ne abbiano rovinati un po' di giocatori lanciandoli troppo presto bisogna fare attenzione